Direttore, buongiorno. Sono giorni un po' intensi questi, dopo quanto è successo sui campi. Le volevo chiedere tanto, da una parte, quanto siete soddisfatti per come sta andando, come è andato, il giorno è andata, e dall'altro questo clima, queste polemiche, insomma anche questa questione del VAR, da affrontare, da capire come migliorare l'uniformità di giudizio, gli errori che si stanno verificando, insomma, fare un po' il punto con lei sulla situazione. Intanto sono qui per fare un consumtivo, perché credo che il termine del giorno è andato, dopo sei mesi passati, questa stagione, si è giusto fare il punto, e quindi quello è di riconoscere i meriti dell'Inter, di essere i primi meditatamente, appunto, nel campionato di Serie A, frutto di una cultura del lavoro applicata in modo intenso, nel grande senso di appartenenza da parte dell'allenatore, dei giocatori, una solidità da parte della società, è un patrimonio indiscutibile che è rappresentato dalla nostra tifoseria. E questo ci deve essere ampiamente riconosciuto, perché le statistiche certe volte aiutano a valutare oggettivamente i fatti, e le statistiche dicono che siamo i primi con 48 punti, 15 vittorie, una sola sconfitta, abbiamo la miglior differenza reti, quindi il miglior attacco.